Allora, eccoci qua, dicevamo con Susan Sarandon, benvenuta innanzitutto, il nome è più importante, come che non ne vogliono gli altri. Lei è stata in giuria altre volte, che cosa cerca in un film? Quando vede un film, è... What are you looking for in a movie? I'm looking for a good story that is told in an unpredictable way, and good performances, and brave choices. Cerca soprattutto delle storie interessanti, raccontate in modo interessanti, delle nuove prospettive, e soprattutto anche i personaggi, come le interpretano. Lei ama molto l'Italia. You love Italy. Sì. I know that you would like... To be... A passport? Sì. An Italian citizen. Come dicevo prima, lei piacerebbe essere... Proviamo insieme, let's go to try it again. Sì, proviamo. Sì. Magari essere qui potrebbe essere una cosa buona. To be here, maybe. Maybe, maybe. It's a good excuse, anyway. Do you know Liguria? Do you know Cesslie? It's the first time in Cesslie. No, it's my first time in this area. I'm very excited. So, I brought my sons, and we're having a very nice time. È la prima volta. We're going to see the football game in Genova. È la prima volta da queste parti. Ci sono anche i figli che andranno a vedere la partita a Genova domani, quindi scopriranno il territorio, ma anche lo sport. Qual è il... C'è un film a cui è particolarmente legato? The movie you would like? Which movie? Yeah, which you would like. I think that's a secret. I can't tell that. No. I think we have to talk to all the jurors, and then we decide together. But there were very many good ones. There were a lot of really sweet and moving and beautiful films. E per ora questo è ancora segreto, dovrà sedersi insieme agli altri membri della giuria e decidere qual è il film preferito. Però i lavori erano tutti molto belli, molto interessanti, erano degli ottimi film. The last question is a very important jury, you, Andrew Dominic, Pietro Scalia, it's a high quality of this jury. That's great, I haven't met anyone yet. Tonight will be the first time I meet the other jurors. It's an ottima jury, ma li incontrerà oggi per la prima volta. See you? Grazie. Thanks very much. Thank you very much.